Musica Cari amici, lettori e lettrici di Femal World, siamo stasera con Edoardo, un noto bel ragazzo della serie televisiva, un medico in famiglia. Allora Edoardo, che ci vuoi dire di questa nuova stagione? Che non so ancora niente, non ho ricevuto neanche una sceneggiatura, non so niente, so che iniziamo a girare il 21 ottobre. Tu già temevi la domanda? Quale? Che staremo insieme, se ci lasciamo? La domanda è anticipaci qualcosa, una cosa. Non so proprio niente, spero che mi arriveranno presto perché non so niente. Senti, fai parte di una delle fiction più importanti che abbiamo in Italia, Secondo te perché è così longevo e cos'ha di particolare che la rende diversa dagli altri? Beh, perché parla delle famiglie italiane in generale, attraverso una serie di personaggi che vanno dai più piccoli, quindi ricopre un po' tutte le generazioni, affrontatemi che riguardano tutti noi, ed è divertente, viene presa in chiave comica, quindi per quello credo piaccia alla gente, è una cosa leggera, uno la guarda per rilassarsi e piace, uno poi si è appassionato, si è appassionato sulle storie, personaggi, le cose, per quello funziona, penso. Un'ultima domanda e poi ti lascio andare a tutte le tue fan, secondo te il tuo personaggio come si evolverà? Buona domanda, non lo so, non lo so, vediamo, io spero, vediamo adesso dovrà nascere questa, insomma si sono messi insieme, no Emiliano e Anna? Tutti stanno aspettando. Vediamo cosa succederà, insomma, se rimarrà all'interno della famiglia, se ci saranno altri problemi, non lo so, vediamo. Vuoi fare per cortesia un saluto ai lettori e elettrici di Female World? Un saluto ai lettori e elettrici di Female World. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.